Dai mettite la maghetta verde Ma non ce l'ho Ma scusa ma il green screen Avvolgitelo Non puoi fare tipo così C'ho il mantello dell'invisibilità Esatto Harry Potter mi fa da sega Harry Potter mi fa da sega C'ho il mantello dell'invisibilità Bravissimi Galien one shot dietro di noi Bravissimo Tiltoni brucia Tiltoni brucia maledetto bastardo è bellissimo Veloce veloce Vai diva discord Veloci Hanno anna Hanno anna sull'iground Ho finito un'atrice Fara discordata Fara discordata Fara discordata Io so one Fara risa 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 Mamma mia rega Oh Calmi oh Calmi oh Arco 2 oh Raga warcup Nemmeno quando ce l'ho con team Così oh Stai tranquilli Stai tranquilli Dovete stare tranquilli Dovete stare tranquilli Dub contro dub Double dub Easy ve la Io cosa ve L'avevo detto se vinceva Io l'avevo detto se vinceva Ho pescato la donola di merda Sta carta io la odio Mi sa proprio sul cazzo Sta cazzo di donola Occhi storti Posto il drago bianco Occhi blu Ho la donola arancione Occhi storti Ragazzi Sud S120 Stanno sparando Davvero? Sei serio scherzi? No volevo provare una cosa Manca Al Vogliamo l'autista L'autista O quello Tommy mischia Le schillate con dei momenti di autismo Tipo what? Sì sì Dedicami un grido di guerra Di Questo è il grido di guerra Questo è il grido di guerra Che si fa su PUBG Ma non da nulla così La storia della mia vita Tutte le partite così le faccio Campero La macchina La macchina Oddio che paura Chi è? Grazie mille Oviv Un uomo di colore Sono morto per primo capo Oddio Oviv La scuola però per favore non capriamo la scuola No 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 io l'ultimo ne vado Tra Giorgi mi sparo Tutto a posto Tutto a posto Nel successo niente Annamo Aspetta 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 guarda Guardate ragazzi che nascondiglio Oh Mi sono nascosto Nessuno mi viene Eh non c'è una macchina Oh ve giura avete visto la macchina Oh c'è da moto Qualcuno lo vado a prendere con la moto Qualcuno Vai bella Sono pronto C'è tanto morirete Arrivo Eh no Per non mi dire così però La prima partita Già Va benissimo Oh non stavo guardando Stavo guardando patacchini Patacchini Li mortacci tua Com'è che si è chiamato? Cos'è che siamo noi I tuoi? Pretoriani L'altra volta era le mie Pretoriani Scadere l'inferno Ok ok È stato bellissimo ragazzi Quando abbiamo fatto il gruppo whatsapp per i moderatori Io stavo rottissimo Stavo rottissimo Non riuscivo a pronunciare la parola pretoriani A genere tutto me ne esco con le mie betoniere Vaffanculo Chiedo il messaggio vocale Qualcuno me lo passi per favore Voglio quel messaggio vocale Lo posso mettere? Regà tranquilli Tutto a posto Mi è per troiani Siamo un mix tra pretoriani e troiani Non ce la posso fare Preso uno Fatto uno Il compagno è qui Il compagno è qui Corri 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 C'è davanti Ti sta mirando Ti sta mirando Mamma mia Tiltoni Quante Bravo Mamma mia Regà No 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 L'ammazzati L'ammazzati Mi vado a chiudere nel cesso Vengo nel cesso Fermo 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 Entra nel cesso E chiudi la porta Entra nel cesso E chiudi la porta E poi ti curi Chiudi la porta Bravo Fare la scena di un film Forno Una cosa importante per tutti Dobbiamo riuscire a prendere la partnership di pubg Perché voi pensate Che noi ci facciamo Un server nostro Da cento persone In cui ci prendiamo E ci ammazziamo Che se voi mi ammazzate Io vi banno Perché io Perché sono il tuzio Oddio mio Vai regà Vai regà Mettete redmi Mettene a Chi cazzo Tu sei cula L'altra volta Nè ne io ho sparato Un colpo di pompa Uno Un caricatore di pistola E quello Sì sì Che cito Va su Metti redmi Su dai Qua Non ci prendi C'hai paura C'hai paura C'hai paura Eh ma Devi spingere O rialziamo Perché se no Moriamo tutti Vai ce la faccio Ce la faccio Dai corri corri Basta che non prendi Niente adesso Si devo saltare Per forza No No Sì No Tutto a posto Ragazzi Tutto a posto Ok fanno vera Devo fuggire dalle espressioni Aiuto Aiuto Corra Corra Il toni Corra Vai vai Prusta Ma mira Con le mouse 2 Cazzo Fai così No no Così è più da uomini Ma c'è uno dietro Che ti sta a pista Ma che mi stanno prendendo A pugna Aiuto A rica sta più affogata La sedia A rica sta più affogata A rica sta più affogata La sedia A rica sta più affogata Non metti il mantello Dell'invisibilità Pure quella Easy Che sta accanto Tipo In tua casa Niente Si Ho Troccato Dove Sopra Fermo 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 Che quanta gente c'è Mortaggio C'è uno Che pure morto Ha sfigato De merda Paura Ho già stato Ho già stato Ho già stato malissimo Merda di me La rega So zotto raga Io cammino a scalzo Io pure io pure A sto scalzo A me non Aaaaa Mi sto fiammi a Perché Da est mi sa No raga Aiuto Sono Quanti sono Quanti sono Eh io ho visto uno Ce l'ho davanti Vieni qua a piazzolo Eh 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 guarda Quello che è stato dopo Non c'è Sì tu Non c'è nessuno Non c'è nessuno Che è questo armato così bene S'è arrivato come i grabbini A fine Oh Che paura Oh sei morto Se no vengo con la palla a finirti eh Che paura Vuoi che ti tenga la manina prossimo con un bombardamento Non ti riesce a cura il volo Ti sta mirando Ti sta mirando Non ti riesce a cura Lo vedi? Eh 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 e E grande Paolo Grande Paolo cannone Ma che uno Grande Paolo Non ti riesce a cura Frusta Non ti riesce a curare Ma va niente per ch Gud Ce l'hai davanti Ce l'hai davanti È solo quello Lo so Sta dietro quella roccia Do vedi Che sta cambiando le armi Eccolo Eccolo a sinistra Cazzo sinistra Mamma mia Vinciamo pure Vinciamo pure è un applauso a tutti noi che abbiamo raggiunto il gol di 500 euro di donazioni che abbiamo tutte le sub tutti i beat tutte le cose delle varie pubblicità e tutto il resto l'abbiamo raggiunto 13 minuti prima di mezzanotte io ringrazio paolo per il supporto che ci ha dato per essere venuto qui per pure per l'ultima donazione che ha fatto grazie mille paolo veramente di cuore per sta cosa devo ringraziare veramente tutti che è una cosa che ci tenevo particolarmente perché è successo due volte alla mia famiglia e pure recentemente come vi ho detto è una piaga che colpisce molte persone e so che magari potrebbe aiutare quello che facciamo alla fine siamo dei gamer siamo una bellissima community e ci sto mettendo io e tantissime altre persone tempo moderatori e non perfino altri che sono nel gruppo che vengono qui nelle live che magari non fanno nemmeno parte dello staff ma non ci mettono la faccia ma stanno facendo tantissimo per creare una gommione di vero e propria e penso che questo qui sia un segnale enorme abbiamo raggiunto 500 euro in 12 ore abbiamo fatto più o meno mi pare un 20 30 abbiamo fatto quasi 33 subscriber e tutti questi soldi verranno donati domani cerco di prendere tutte le somme perché twitch ora non mi segna le entrate delle sub e tutto il resto penso che questo sia veramente un segnale di cambiamento una community del genere è incredibile e veramente devo ringraziare pure i ragazzi del moba che mi hanno dato una mano tutti non solo paolo che è venuto e anzi paolo ci ha dato il colpo finale proprio arrivato e ha dato proprio la stoccata finale tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato anche nel loro piccolo dicendolo magari alla propria community perché erano indaffarati con altre cose che avevano già schedulato l'unica donazione che abbia mai fatto di ferra l'unica donazione che lui abbia mai fatto l'ha fatta per questa streaming hai fatto benissimo almeno ha una donazione diciamo per un per un motivo facciamo diciamo così per la ricerca ragazzi quindi alla salute la salute la salute